Finisce in parità 1-1 l'incontro fra il Matese e il Termoli del Presidente Montagu, l'originario del Casertano, che si è disputato lo stadio ferrante di Piedimonte Matese davanti ad un pubblico numeroso. Una gara a duplifas, come si dice, con la squadra di Urbano che ha fatto un ottimo primo tempo, passando anche in vantaggio con il ricamato, poi buona parte del secondo tempo sotto tono. Infine il pareggio che lascia la squadra nelle prime posizioni di classifica, mentre il Teramo ottiene il quattordicesimo pareggio della stagione. Ma ora sentiamo prima il Presidente del Teramo Montaguila e poi la consueta intervista con Mr. Urbano sull'analisi della partita. Presidente Flaviano Montaguila, un buon punto qui a Piedimonte. Sì, a Piedimonte ci perdono tutti, il Trastevere ha preso quattro gol, quindi oggi devo essere sincero, l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto, soprattutto dopo aver fatto quell'errore in fase difensiva. Ho visto una squadra reattiva che pian piano, pian piano, pian piano ha conquistato i metri e poi con l'ingresso di Bruno che ha cambiato le sorti della partita. Un punto molto importante per il nostro cammino. E' un futuro del Presidente Montaguila da queste parti, nuovamente nell'Alto Casertano? Ma il Presidente Montaguila nell'Alto Casertano è sempre impegnato, tant'è vero che noi quest'anno abbiamo fatto una squadra di giovani, stiamo vincendo il premio di miglior squadra di giovani. Mister, allora questo calo di intensità nel secondo tempo, a cosa è dovuto? Ma non lo so a cosa sia dovuto, probabilmente anche alla pressione della squadra avversaria, però sicuramente sono d'accordo, noi il secondo tempo, soprattutto l'inizio, la prima parte del secondo tempo, non siamo riusciti ad avere i ritmi che abbiamo avuto per tutto il primo tempo. Poi se sia stato un aspetto psicologico oppure un aspetto fisico non lo so, ma non credo che sia un aspetto fisico. Abbiamo fatto fatica un po' a risalire, a tenere palla davanti, finché non abbiamo preso l'1-1, poi abbiamo preso l'1-1 e miracolosamente siamo ritornati intensi, siamo ritornati a giocare, però spesso l'aspetto psicologico è fondamentale in questo gioco, è sicuramente un atteggiamento che l'abbiamo pagato caro. Ecco, questi cambiamenti in difesa, poi un infortunato, un espulso, Riccio che entra e poi esce? Ma la gamba è dovuta uscire perché già aveva preso una brutta botta, c'era un occhio gonfio, uno zigomo gonfio, quindi gli girava la testa, abbiamo tirato fino all'intervallo, proprio per valutare un po' le condizioni, però il ragazzo non se la sentiva perché aveva dei giramenti di testa. Poi l'aspetto del discorso di Riccio e degli altri ragazzi, c'è un aspetto di under che bisogna tenere sempre presente, quando giochi con il portiere over è chiaro che poi dopo davanti hai un po' la coperta curta.